Musica 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 Allora, iniziamo con Domenico Umbro e Raffaele Pagliarudi. Sì, presentiamo la musica. E' vero? Sì. Quindi ringraziamo questo grande personaggio, Domenico Umbro, che è con noi, fedele, e anche Raffaele Pagliarudi. Sì. 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 del mio destino. Ucciderete la morte con un chiodo al mio. Il ricciolo piondo del pubo da un morire dei paesi tupitani. Accenderete la vita come un baglione. Un guizzo di Sant'Antecorallo, di Kinder Reduser. Nella mia vita il sogno. Nella mia morte il dubbio. Grazie. Applausi. Ora seguiremo la forza di Ignazio. Sempre su musica di Roberto Prandini e testo di Bruno Mancini. Grazie a tutti. 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 come il bruco frafrane interato, storbito in moto in questo giorno d'Afa ho lasciato la mia immagine lei non lo capirà ma tu lisciami e fasciami e abbracciami e stringimi e scopri e copri e e nardami e ignorami e forgiali favolotusa io vivo da sempre quasi fossi una meglia vero solo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti